Uomini e donne oggi, Soleil felice con Marco, frecciatina a Luca Onestini Soleil sorge, uscita da Uomini e donne con Luca Onestini, oggi felice e innamorata di Marco Cartasegna. In un'intervista rilasciata al sito comingson.it Soleil sorge torna a parlare di Uomini e donne della sua vita insieme a Marco Cartasegna. Oggi dichiara di essere una donna felice, con tanti progetti per il futuro, sia lavorativi che sentimentali. Partecipare al programma di Maria De Filippi l'ha fatta migliorare sotto certi aspetti mentre, per altri, l'ha resa più vulnerabile. . Di Luca Onestini non parla direttamente ma alcune sue affermazioni, secondo alcuni, sarebbero delle chiare frecciatine all'ex fidanzato. Soleil, infatti, parla di come l'esperienza Uomini e Donne le sia servita per capire meglio alcuni aspetti del suo carattere. . . Oggi Soleil sorge rifarebbe Uomini e Donne? La risposta della ragazza è affermativa, tornando indietro rifarebbe tutto. . Questo perché quello che è successo l'ha portata a conquistare quello che ha oggi. . I lati positivi, quindi, sono stati maggiori di quelli negativi. . La sua vita sentimentale, infatti, procede per lei a gonfie vele anche per questo motivo. . E' un momento fantastico sia per quanto riguarda l'aspetto lavorativo che quello sentimentale dice Soleil che è stato un bel trambusto prima di arrivare a questo punto, però sono assolutamente felice di tutte le decisioni che ho preso. . . Compresa quindi, secondo l'opinione prevalente, la decisione di lasciare Luca Onestini durante la permanenza di quest'ultimo al Grande Fratello Vip. . . Luca Onestini contro Soleil sorge, le parole sull'ex fidanzata dopo il Grande Fratello Vip. . . Una volta uscito dal Grande Fratello Vip a Luca Onestini gli è stato chiesto più volte di parlare del suo rapporto con Soleil prima e dopo l'esperienza del reality. . . L'ex tronista di Uomini e Donne a Verissimo aveva detto di essersi chiarito le idee una volta fuori dalla casa. . L'opinione che si è fatto su di lei lo avrebbe inoltre spinto a non sentire il bisogno di incontrare nuovamente la sorge per avere un chiarimento. . . Entrambi dunque, anche se in modi diversi, hanno deciso di voltare pagina e le loro strade, al momento, sembrano non destinati ad incrociarsi di nuovo. .